Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Dato se sentite suoni di martelletti strani che stanno facendo dei lavori nel palazzo in cui abito e lavoro, quindi ahimè non posso insonorizzare il tutto. Però, insomma, questo è Ha parlato Max Allegri della sfida di domani della Supercoppa. Anche Chiellini, ovviamente. Adesso parliamo un po' di tutto e dei paradossi che esistono all'interno della Juventus. Infatti, ci arriviamo, ci arriviamo. Ragazzi, prima di iniziare vi dico già che questo pomeriggio uscirà un video di approfondimento su Bruno Guimaraes. Attenzione, ho registrato il video ieri sera, stanchissimo, e ho fatto il refuso. Ha 24 anni ed è nel 97, se non vado a erratto. Quindi, questo è stato un mio breve errore. Eppure l'avevo letto miliardi di volte, ma la stanchezza mi porta a commettere degli errorini ogni tanto. Quindi, scusatemi, siete stati super puntuali a sottolineare, vi ringrazio. Ora, banda alle ciance e ragioniamo sulla partita di domani. E sulle parole di Max Allegri, di Giorgio Chiellini, eccetera, eccetera, eccetera. Vi dico già la mia sulla sfida di domani. Ragazzi, siamo non sfavoriti. Di più. Di più. Mi è fatto piacere che durante la conferenza stampa Chiellini abbia sottolineato la situazione legata ai cartellini di campionato che valgono nella Supercoppa. Effettivamente, cara Lega Calcio, è una puttanata immonda, immonda, levare dei giocatori a una squadra o all'altra in una competizione a sé stante. Cioè, è una finale, è una sfida tra chi ha vinto la Coppa Italia e chi ha vinto lo Scudetto. Se vuoi renderla un minimo spettacolare, che fai? Nulla. Non fai nulla. Lasci tutto così com'è. Nessuna munizione, nessuna espulsione del campionato. Vai a inficiare, ovviamente, sull'utilizzo di certi giocatori all'interno di quella sfida. Allora, si gioca così con tutti i disponibili, salvo i infortunati, però chi è a disposizione può giocare. Punto. Salvaguardi lo spettacolo. Cioè, immaginiamoci ora l'Inter ha monito Lautaro, nell'ultima partita mancava Lautaro. Cioè, è una pedina importante per l'Inter. Ve la rigiro così. Eh, perché altrimenti, sempre parlare lato Juve, sembra che stiamo a fare il piagnisteo. Non piango, eh, perché manca Delicte Quadrado. Premetto che siamo già sfavoriti con Delicte Quadrado. Senza di loro sarà sicuramente un'impresa ardua vincere questa Supercoppa. Poi, oh, è una finale, è una secca, ci sono determinati episodi che possono andarci bene, è a loro male, quindi magari la si vince così. Sì, però, sulla carta, la situazione dice che l'Inter è assolutamente la favorita. Io sarò allo stadio. Ragazzuoli, se ci vogliamo incontrare, in sicurezza, con mascherine, eccetera, lì al parcheggio, all'esterno, mi fa più che piacere. Ovviamente in sicurezza, eh. Mi raccomando, per voi, in primi se non per me, per voi, per voi. Quindi, siccome poi non è che mi accusate, ah, colpo gobbo contagia, no, io non contagio una mazza, io sto molto attento. Quindi, mi raccomando, con le dovute cautele ci si può incontrare, scambiare due chiacchiere, anche bere una birra, ecco. All'aperto, perché no? Tutto, tutto si può fare. Quindi, se venite, cercatemi su Instagram, in maniera privata, qua su YouTube, non in un commento, cercatemi su Instagram o su un social dove posso rispondervi direttamente. Non su Facebook, Instagram credo che sia il migliore. Quindi, cercatemi di là. Domani sarò là, per assistere a una partita veramente complicata. C'era io e senza quadrato, che comunque è un giocatore per noi fondamentale. Danilo indisponibile, cioè, siamo veramente cortissimi là dietro. Bonucci non può giocare titolare, quindi io credo che la partita verrà impostata con la copia centrale Rugani e Chiellini. A sinistra può tornare, insomma, il buon Alessandro titolare e Desciglio a destra. Cioè, questa credo che sia la formazione tipo, è Alessandro a sinistra e Desciglio a destra. Altrimenti non so come, caspita, ci schieriamo domani in campo. Faccio fatica veramente a ragionare. O De Winter, che verrà anche lui direttamente con la squadra. A centrocampo mi aspetto un Arthur che entrerà a partita in corso e una Juve che partirà con l'assetto, secondo me, contro la Roma. Male, male, male. A me questo ragionamento che fa Allegri sul fatto di spezzare le partite non piace. Perché? Perché prima lo potevamo fare quando avevamo una certa solidità. A noi manca proprio la solidità, per cui è inutile cercare di tenere il risultato dello 0-0 fino al sessantesimo e poi applicare un gioco offensivo. Secondo me noi non siamo capaci... Cioè, i ribaltoni li abbiamo fatti due volte in quest'anno. Abbiamo recuperato una partita con il Napoli e abbiamo recuperato la Roma. Partire chiusi e poi attaccare, secondo me, non è una mossa vincente. Dobbiamo cercare di impattare subito bene alla partita, cercando di creare il nostro gioco, le nostre situazioni e cercando di essere quanto più offensivi possibili. Chiesa Out potrebbe giocare Bernardeschi al posto di Chiesa, titolare o Kuluseschi. Vediamo un po' come giocherà. Manca Quadrado sicuramente Kuluseschi e Bernardeschi giocheranno di bala morata. È una formazione molto rimaneggiata. Stiamo andando a giocare al massacro. Domani probabilmente vedrò la prima sconfitta dal vivo della Juventus della nuova era. Ho visto già una sconfitta in passato. Un 4-1 del Bayern di Monaco ai danni della Juve. Nei gironi c'era Ciro Ferrara, allenatore. Uscimo dalla Champions League e andiamo in Europa League. Mi pare che andrò a rivivere un pochettino le stesse sensazioni. Poi mi auguro che il campo vada a smentirmi e che la Juventus faccia una partita allucinante e vinciamo questa Supercoppa. Male non fa. Devo dirvi una cosa. Io in una live con Luca Momblano mi ha detto facciamo 4 punti e pareggiamo proprio con il Napoli rimaneggiato e vinciamo a Roma. Questa è la presa. E vinciamo anche la Supercoppa. Ha detto così, scherzando, no. E ci sta prendendo. Ora la Supercoppa è quello che manca. Poi il campionato, lasciatemi dire, è molto più importante in questo momento. È una partita importante, una partita storica. Andrò a vedermela tranquillamente, conscio del fatto che l'underdog in questa partita è proprio la Juventus. Quindi, ripeto, mi auguro che la Juve sia in grado di tirar fuori il coniglio dal cilindro, come si suol dire. Eh, perché altrimenti è complicato, secondo me, batterli. Questo è. Poi, ripeto, le assenze sono pesanti. Cioè, dell'Itte quadrado... Belin. Deve capitare qualcosa. Ha un episodio che... Un'espulsione del Perlinter. Qualcosa deve capitare. Però, veramente, la vedo molto, molto grigia. Per quanto riguarda Chiellini, belle le parole che ha usato per Chiesa. Non è un danno solamente alla Juventus, ma è un danno a tutto il calcio italiano. Perché vi ricordo che la Nazionale poi a marzo lotterà severamente per qualificarsi poi ai mondiali in Qatar. La vediamo un po' tutti grigia, credo, no? Questa qualificazione. E poi senza Chiesa, anche qua. Cioè, l'Italia si trova nella stessa situazione della Juventus, quasi in Supercoppa. Ecco, siamo in quella situazione. Detto questo, ragazzi, non aggiungo altro. Ci vediamo direttamente più tardi, verso le 17.30. Video di approfondimento. Bruno Gimeraes e Azmun. I due nomi di mercato chiacchierati ancora oggi. Ecco, andremo a toccare tutta la parte tattica. Mi sono fatto dire due dritte anche dal buonimi scouting. E quindi, vi so dire qualcosina in più sull'efficacia di questi due giocatori, sulla bravura di questi giocatori e su come possono veramente impattare, ok, alla Juventus. Un abbraccio a voi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così quel video non ve lo perdete. E sempre, fino alla fine, forza Juve!